Oggi raccontiamo la storia di un mio amico, raccontiamo la storia di un grande musicista, di un chitarrista, di un uomo di spettacolo, di un cantante con il quale io ho collaborato. Quindi è una storia alla quale tengo particolarmente perché oggi celebriamo come merita Massimino Riva, l'uomo che seppe fare del palco la sua casa, Massimo Riva.